Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo dell'emergenza Covid, dati preoccupanti nelle ultime 24 ore, 460 decessi in tutta Italia, oggi cabina di regia, probabile chiusura anche dopo Pasqua. Saltata la seduta del Consiglio comunale monotematico sui rifiuti a Torre del Greco perché non si è raggiunta la maggioranza legale per dar via al dibattito, rinviata quindi a domani mattina. Ultima tappa di marzo Prevenzione Donna, iniziativa a sostegno della salute delle donne. Siamo stati con le nostre telecamere al Comitato di quartiere Rinascita. Opportunità in arrivo per chi ha bisogno di attrezzature informatiche in questo periodo di pandemia. Pubblicato il bando ce ne ha parlato il consigliere Luigi Gallo. Infine lo sport con la Turris match casalingo contro il Catanzaro. I Corallini cercheranno la seconda vittoria consecutiva. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Numeri preoccupanti quelli delle ultime 24 ore. In Italia, nonostante le stringenti misure anticontagio, si contano quasi 24.000 tamponi positivi e ben 460 morti, dati inconsueti se confrontati a quelli degli altri grandi paesi europei. Per questo motivo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha anticipato alle 12 la cabina di regia per valutare le prossime decisioni da prendere. Successivamente, alle ore 14, il Premier terrà una conferenza presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. L'ipotesi di una riapertura dopo Pasqua è fortemente condizionata dalla curva dell'epidemia che non tende a scendere, anzi. Il decreto legge, con le nuove misure, dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nei primi giorni della prossima settimana, forse martedì. In ballo ci sono il ritorno a scuola, che il Premier e alcuni ministri vorrebbero anche in zona rossa, il ripristino del sistema originario dei colori, compreso il giallo, sospeso in questo periodo, con le decisioni sugli spostamenti tra regioni e sulle attività produttive. Il Premier intende anche questa volta farsi guidare dalle indicazioni della scienza e quindi dai dati. La speranza, per ora, è che nei 12 giorni che mancano al 6 aprile, la curva dei contagi inizia a raffreddarsi. Ma dopo qualche timido segnale incoraggiante negli ultimi giorni, ieri e oggi c'è stata la doccia fredda, con quasi 1.000 morti e 45.000 positivi. L'ipotesi che prevale tra i ministri più prudenti è quella di prolungare le restrizioni attuali oltre Pasqua, molte le critiche sui controlli delle forze dell'ordine, che nelle strade d'Italia non sono apparsi così come nel periodo del primo lockdown. Saltata la seduta del Consiglio Comunale monotematico sui rifiuti attori del Greco, richiesto dai consiglieri comunali di opposizione, per mancanza in aula degli stessi firmatari. Non tutti presenti i consiglieri di opposizione che nei giorni scorsi avevano presentato al Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Fruglio, la richiesta di un Consiglio Comunale urgente per discutere ed affrontare la problematica dei rifiuti in città. Un'assenza che, di fatto, ha comportato il rinvio dei lavori di assise consigliare in seconda convocazione a domani, 27 marzo, alle ore 11. Vincenzo Salerno, consigliere del Movimento 5 Stelle, richiesta un Consiglio Comunale per monotematico per la questione NU. Questa mattina cosa è successo? Questa mattina è successo che in prima convocazione non si è svolto il Consiglio Comunale per assenza del numero legale sufficiente per poter procedere e quindi si passerà alla seconda convocazione prevista per domani. Cosa si aspetta per domani? Mi aspetto almeno di vedere in aula il Sindaco, che stamattina non c'era, con la sua squadra di maggioranza, anche perché oggetto della discussione odierna e poi di domani è una criticità a cuore di tutti i cittadini torresi, le sofferenze del sistema igieno urbano. Chi erano i presenti? Eravamo sette presenti. Non vorrei far torto a qualcuno, se lo dimentico o se magari erroneamente me ne ricordo. Eravamo quasi tutti gli esponenti dell'opposizione, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ricordo Valerio Ciavolino, Luigi Gardarola, Ciro Piccirillo, Salvatore Cargiulo, il collega Nello Formisano da poco passato in maggioranza, mi sembra che era l'unico presente. Poi, ripeto, eravamo sette presenti, potrei dimenticarne qualcuno. Lei cosa associa questa mancata presenza della maggioranza? È strana perché non portava nessun deliberato, era un focus doveroso per poter affrontare quelle che sono delle carenze, per proporre dei correttivi, ma alla fine non portava in sé nessun deliberato e quindi è strano. Ho poche risposte da darmi in merito se non che situazioni e circostanze di questo tipo sono tristi e anche in un certo senso rispettose per le istituzioni. Tappa conclusiva di Marzo Prevenzione Donna, iniziativa a favore della salute delle donne al Comitato di Quartiere Rinascita in zona Sant'Anna. Molte le donne che hanno risposto all'iniziativa, che si è tenuta nei locali della Chiesa di Santa Maria del Principio. Anche qui al Comitato di Quartiere c'è stata una grande affluenza, una grande partecipazione in virtù forse di una problematica fortemente sentita. L'interesse, la partecipazione e la voglia di realizzare questo intervento è stata dettata anche dall'alto tasso e dagli indici che purtroppo ci hanno determinato a dover intervenire necessariamente su questa problematica. Un'iniziativa che in questo contesto storico ha forse un valore più importante? Ha un valore importante perché tutti pensano che l'unico problema sia solo quello della pandemia, solo quella del Covid. In realtà ci sono tante altre patologie sulle quali bisogna sempre avere attenzione, monitorare, stare attenti perché ovviamente la prevenzione determina anche un grande risparmio per la sanità pubblica, oltre che ovviamente facilitare la possibilità di cura e quindi di raggiungimento di un risultato benevolo nei confronti della salute delle donne. Devo dire che è andata benissimo, sono state veramente 40-50 visite ogni volta, vuol dire che il territorio ha bisogno, che le persone adesso hanno di nuovo fiducia a venire e questa è una cosa fondamentale. Siamo contenti, mi fa piacere il nostro territorio abbia avuto questa opportunità e speriamo di poter fare sempre qualcosa attraverso l'aiuto e il sostegno per le donne. Ci saranno altri tipi di iniziative del genere? Sì, dato l'ottimo riscontro avremo altre iniziative. Ci siamo prefissati già due date, una verrà sicuramente effettuata qui, giù Sant'Anna, col comitato di quartiere e un'altra via nazionale, così daremo la possibilità di coprire l'intero territorio torrese. Ringrazio chi ha dato il via a questa iniziativa e chi ha promosso questi incontri, quindi il dottor Renato Rimaldi che opera nel sociale sul territorio. Ringrazio nuovamente la dottoressa presidente della Villa Betania che ha fornito un'equip accurata ma soprattutto competente professionale, Cordelia Vitiello. Inoltre le associazioni che hanno dato un grande contributo, Maria Pirozzi, assessore alle politiche sociali che ha collaborato in sinergia con me e ringrazio vivamente il sindaco che ha dato l'ok a questa significativa iniziativa. Mettere i locali a disposizione significa stare a servizio del popolo e sono contento di questo e come parroco sono sempre pronto a dare i locali della comunità per qualsiasi iniziativa e mi auguro che possa aprire il cuore di tutti per la speranza di un mondo nuovo. Come ha risposto il quartiere a questa iniziativa? Il quartiere ha risposto benissimo, boom di prenotazioni, abbiamo cercato di fare il possibile tenendo presente anche il momento sanitario particolare. Ci auguriamo in futuro di poter ospitare altre simili. Per il resto un ringraziamento va ovviamente alla Regione Campania, al Comune di Torre del Greco, tutte le associazioni di settore e che ha permesso che si potesse fermare qui questa manifestazione nel nostro quartiere. Signora, lei ha fatto gli esami, com'è andata? Benissimo, devo dire che sono rimasta contentissima, grande competenza e dolcezza innanzitutto. Spero che questa iniziativa si ripeterà in futuro. Negli studi di TV City, l'onorevole Luigi Gallo, in questo momento di grande crisi economica legato all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ci sono delle opportunità per le famiglie attraverso l'erogazione di voucher per l'acquisto di servizi di connettività. Di che cosa si tratta? Sicuramente tutti noi stiamo vivendo un momento di difficoltà complesso, è stata varata adesso una misura di sostegno di 32 miliardi dal governo, ma nel frattempo ci sono anche tante piccole misure che è bene informare ai cittadini. Chi è sotto i 20.000 euro di reddito ISEE può fare una ricresa a proprio operatore telefonico per avere un bonus di 500 euro, o in PC, o in smartphone, o in connessione. Quindi tra smart working e DAD questa è un'opportunità significativa? Sì, è un'opportunità significativa, ma naturalmente è un pezzettino piccolo, non ci illudiamo, rispetto a quello che stiamo vivendo, il dramma che stiamo vivendo. È in questo momento che per connetterci con le famiglie, con gli amici, a scuola e lavoro, diventa strategico comunque avere delle risorse da spendere in questa cosa, è una misura che è importante, a cui si può accedere fino a novembre. Quindi tutte le famiglie che non si sono rivolte agli operatori telefonici per avere questo bonus possono farlo da adesso in poi. Impegno casalingo per la Turris, che ospita l'Americo Liguri, il Catanzaro, nel match valido per la 33esima giornata del girone C di Serie C. Dopo il turno di riposo, la squadra di Bruno Caneo cercherà i tre punti per dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente contro il Catania per 1-0. Non un obiettivo semplice dal momento in cui, allo stadio di Torre del Greco, arriva la terza forza del campionato, a quota 54 punti. Al momento i corallini sono a più 6 sulla Vibonese, che staziona al 16esimo posto, il primo che condanna la zona play-out. La precedente vittoria, che ha interrotto la serie negativa di tre sconfitte consecutive, dà slancio ai praduni di casa, che possono contare anche sul nazionale Bojciuk. Il Moldavo ha rifiutato, di comune accordo con l'enturace della società, la convocazione nazionale per le gare contro Isole Faroe, Danimarca ed Israele. La società, si legge nel comunicato stampa, ringrazia Aleksandru Bojciuk per il senso di appartenenza e responsabilità dimostrato nell'occasione. Grande ex del match sarà l'attaccante Felice Vacuo, che oggi gioca nella compagine calabrese. Il classe 82, prodotto dalle giovanili della Turris e con l'attivo ben 200 gol in carriera tra i professionisti, ha giocato all'ombra del Vesuvio nella stagione 2000-2001. A dirigere il match sarà Luca Angelucci della sezione Aia di Fioligno, mentre a coeduvarlo saranno gli assistenti Alberto Zampese, Lucia Abruzzese e il quarto uomo Fabio Natilla. I pronostici della vigilia danno per ragioni di classifica il leggero vantaggio il Catanzaro, ma la Turris cercherà di guassare i piani dei calabresi. Spesso in questo campionato i corallini hanno fatto delle prestazioni importanti contro le squadre di alta classifica. Servirà sicuramente la Turris vista contro il Catania per sperare in una nuova impresa. Grazie per la cortese attenzione e per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvsiti.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e buon weekend. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buon weekend.